Cinque sanitari sono stati iscritti nel registro degli indagati per la morte di Pompeo Scarpita, il maresciallo dei carabinieri in pensione, deceduto presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, a poche ore dal ricovero. Sulla morte delle 82enne, originario di Camerota, la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo di indagine dopo l'esposto presentato dai familiari dell'uomo. Scarpita è arrivato al pronto soccorso sabato pomeriggio, aveva la febbre alta ed accusava dolore con gonfiore alla gamba destra. È stato ricoverato nel riparto di malattie infettive, dove è deceduto durante la notte tra sabato e domenica. Una morte improvvisa, quanto inspiegabile per i figli dell'ex maresciallo. Domenica mattina, i familiari si sono recati presso la stazione dei carabinieri di Vallo, dove hanno presentato un esposto. I militari della compagnia vallese, al comando del capitano Mennato Malgeri, hanno sequestrato la cartella clinica relativa al ricovero dell'82enne. La Procura, con il sostituto Vincenzo Palumbo, ha aperto un fascicolo di indagine, con l'iscrizione nel registro degli indagati di cinque sanitari. Sul corpo dell'uomo, il medico legale, Adamo Maiese, domenica pomeriggio ha effettuato un primo esame esterno. Tra domani, massimo giovedì, sarà effettuato l'esame autoptico. I figli di Scarpita vogliono sapere le reali cause del decesso ed escludere eventuali responsabilità. Per i familiari l'82enne non avrebbe ricevuto, sin dall'arrivo in ospedale, le necessarie tempestive cure. La morte del maresciallo ha sconvolto la comunità di Camerota e quella di Vietri sul mare, dove Scarpita, per anni, ha guidato la locale caserma dei Carabinieri.